Stratman cerca però di riconquistarla, ce la fa, avanza ancora Stratman, Stratman il tocco per il capitano di migliaia di rigore, avanza Maikon sulla destra, cross di Maikon, palla in angolo, go, 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 autogol, 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 autogol sul cross di Maikon, sembrava che la palla finisse fuori, è invece entrata il cross di Maikon, il cross di Maikon deviato, è la palla che entra, tutti su di lui, tanto gli ha fattene lì tutti questa, Ma voglia che, guarda che è armato Ancora indietro per il capitano, largo dalla parte opposta c'è Miralem, lo vede, lo serve, ecco Pjanic, il gol, go, 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 un gol fantastico, un gol fantastico a palloletto di Miralem, Giotto, 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 un gol fantastico, l'ha disegnato nell'aria, l'ha disegnato nell'aria, tutti quanti ad abbracciare anche Rudy Garzia Pallone a Danelino, poi Pjanic, il lancio in avanti ad Emilia Aic, ottimo lo stop, avanza di Aic, largo c'è Balzaretti di Aic, go, 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 go. che gol straordinario Adam Ljajic un destro incredibile un destro incredibile vicino al palo di destra da parte di Vese Raffael un destro al full micotone splendido il destro da parte di Adam Ljajic ed è il primo gol anche per lui grazie a tutti